Buon pomeriggio da Alessandra Amici, siamo al Palace Saroni di Genzano per l'incontro della diciannovesima giornata del gruppo C di Serie A2 La sfida è quella tra le costi di Genzano e l'Academy Fulsa al Pescara Genzano e si parte con Luca Iann che gira subito il primo pallone verso Bassani, Lolo Suaso cerca subito la palla lunga per Petrini Al volo, palla fuori, l'uomo più avanzato, Patricialli lo punta a Lolo Suaso, lo salta, salta un'altra ancora, palla dentro Il salvataggio del capitano, poi non riesce a guadagnare il ringio dal fondo, Luca Iann prova con il pede, Menichella risponde Poi Bassani al volo per il Pescara, Lolo Suaso prova a cercare, Luca Iann ancora Menichella due volte Suaso ancora un dribbling, subito Cimanghigno solo che la leva dalla disponibilità di Bassani che era posizionato meglio Due volte, stavolta Cimanghigno, il gol con il tacco di Cimanghigno appena entrato, il numero 11 lo butta subito dentro Non ha potuto nulla Menichella che finora aveva tenuto la porta chiusa Patricialli, Zappacosta, chiama la discesa di Giampaolo, bravo a tenere in campo, pressato, palla persa, Luca Iann serve dentro Lara, 2 a 0, e stavolta la pressione vincente è quella dell'Ecosity, palla rubata E Luca Iann, molto intelligente, molto altruista, serve Lara completamente da sola, appena entrato al numero 10 93, si abbassa Lara, palla al terzo uomo, se l'è perso Pena Corveira, grande azione Non c'è fallo secondo l'arbitro, Luca Iann si gira sul destro Luca Iann si all'indietro, Pena Corveira, Patricialli, il capitano preso dal numero 9, palla persa Pallo di Lolo su Aso, che rischio, appoggia dal portiere e va Trovato Cimanghigno, si gira benissimo, Cimanghigno Troppi pochi spazi, allora Pedrinho chiude la tiene, Cimanghigno, poi numero di Fusari c'è ancora Cimanghigno Ha servito Cimanghigno, palla all'indietro per il tiro e c'è il 3-0 del capitano Terenzi Azione pazzesca dell'Ecosity, un calcio davvero meraviglioso Cimanghigno, gran palla per Pedrinho, 4-0, che palla di Cimanghigno Che palla del numero 11, ha tagliato tutto il campo con un filtrante davvero meraviglioso E anche Pedrinho, segno un gol Sbaglia ancora in difesa, Cimanghigno recupera il pallone, dentro palo Portiere dell'Ecosity, Patricielli prova la battuta, vince ancora il rimpallo Zappacosta, chiamato un fallo di mano, non c'è nulla di Domenico, respinge Troppe palle perse in questo modo da parte dell'Accademia Pescara Giampaolo subito forte, aiutato da Zappacosta che recupera il pallone Nel numero 8, ha servito Patricielli, ancora il numero 30, Patricielli Ed eccolo il gol dell'Academy che prova a riaprirla con il suo capitano Nono centro stagionale del numero 30, 4-1 E qua buona la palla recuperata da Zappacosta che riesce a trovare il suo capitano 4-1 Eccolo il 93, già servito, servito di nuovo Luca Jan Che azione, che giocata, 5-1, triangolo perfetto Suaso, Luca Jan, ancora Suaso Troppo facile per dei giocatori così Tutto pronto per l'inizio di questo secondo tempo Si riparte dal 5-1 della prima frazione Cimanghigno, Lara, Terenzi, Gedes e Suaso I marcatori per le cose di Genzano, Patricielli Cimanghigno solo Esce il tiro con il sinistro Si è liberato Luca Jan, eccolo servito Blocco Luca Jan, è una finta Vada Bassani Menichella E da parte del numero 12 C'è di nuovo solo Luca Jan che colpisce Salvataggio E poi palla fuori C'era Zappacosta da solo Non se ne è accorto Allora possibilità dall'altra parte per le così Di Suaso serve per Gedes Gedes con lo scavino Mano di richiamo E poi Luca Jan Aveva preso anche questa Menichella Ma non è bastata ad evitare Il gol di Luca Jan 6-1 E così è di 25esimo centro In questo campionato Palla larga per Cimanghigno Dentro Suaso Maura Luca Jan Maura ha riconquistato il pallone da Landolo Servito ancora il 19 Landolo col destro Sotto le gambe di Di Domenico Segna l'Accademy Pescara Prova un tentativo di riapertura 6-2 Gol di Landolo Con la punta Poi torna lì indietro C'è solo Lolo Suaso Eccolo servito Uno contro uno con Mano Le finte del 93 Che va sul sinistro E poi allarga Di nuovo Sollecitato Il numero 93 Va sul destro Dentro Cimanghigno Con il ginocchio Palla Perfetta Di Lolo Suaso Che trova Il compagno Ha lasciato Tutto solo Invece Da Pedrinho Adesso Ci sistema Le spalle Di Liviero Servito C'è la rovesciata Sfiora l'Eurogoal Cimanghigno Ecco Sidi che con questa vittoria Come Detto Scavalca Momentaneamente La fortidura A riposo Ma tiene anche a distanza E qua c'è il gol Di Fusari Palla recuperata E segna Porta vuota Il numero 7 8-2 Servito Di Domenico Sinistra Cercare Luca Ianno Stop di petto La mente Ciucola Suola Attacco Dentro Costantini Per Fusari Ancora Costantini E segna anche Il giovane Costantini Il numero 29 Qua Grande altruismo Da parte di Fusari Appena entrato Firma Il cartellino E finisce qui La partita Eccolo Il fischio finale